Il parere dell'avvocato ha soldato proprio per dire se il progetto è fattibile o no, ancora non c'è, ma quello che manca, ancora e inaspettatamente, è lo svincolo per entrare in struttura. Non c'è pace per il nuovo ospedale Maglia Melpignano, che scontaggia il peso dall'aver perso il finanziamento che avrebbe reso possibile la realizzazione dell'opera, che, lo ricordiamo, con annessi arredi, costerà 416 milioni di euro. Ma, appunto, tutti i ritardi accumulati sin qui hanno portato alla perdita del finanziamento e comportano l'allungamento del tempo per agganciarne un altro, perché di ritardi si continua a parlare. Già che nel corso dell'ultima seduta della Commissione Bilancio, nella quale la ASL questa volta ha inviato un delegato, ne sono immersi altri due. Anzitutto il parere dell'avvocato bolognese Zunmariello, assoldato dall'ASL perché specializzato in consulenze di questo tipo e costato 24 mila euro, non ha ancora consegnato il parere sul progetto. E quindi non è ancora possibile capire se fattibile, così come presentato, dovrà intraprendere la strada di un finanziamento pubblico privato. L'altra questione, che nel settembre 2023 era emersa in Commissione, ma che sembrava risolvibile entro pochi giorni, è lo svincolo per l'ingresso dell'ospedale. Non è previsto nel progetto della nuova 275, occorre che ANAS lo preveda. Ma appunto, da settembre ad oggi, ANAS non ha dato alcuna risposta all'ASL. E questo ha fatto notare il direttore del Dipartimento Salute Montanaro rischia di essere un problema titanico, soprattutto se dopo tutte le traversie c'è l'ospedale, ma non la strada per entrarci. Su entrambe le questioni saranno inviate sollecitazioni. Resta in sospeso la questione dell'approvvigionamento idraulico, visto che è stato appurato essere insufficiente per l'intero plesso. La soluzione che prevede l'installazione di un depuratore potrebbe non essere semplice come previsto in un complesso urbano, come quello in cui sorgerà l'ospedale. Ma questo oggi appare il problema minore. Quanto all'esenzione via VAS, invece, dovrebbe arrivare entro giugno.